Buonasera a tutti, dopo le ultime modifiche ho portato il mio amplificatore Dared WP16 nella saletta di ascolto che uso normalmente per i test e l'ho comparato con altri amplificatori di buona qualità. Rende un'immagine stereo un po' compressa, quindi ho deciso di riportarlo nel laboratorio e fare altre modifiche. Nello specifico, questa volta ho twistato i cavi di alimentazione dei filamenti delle valvole finali, corrente alternata, quindi genera campi magnetici variabili che si possono poi concatenare con tutto il resto del circuito e generare rumore. Poi avrei voluto farlo anche per i filamenti delle preamplificatrice driver, ma il cavo è troppo corto, se l'ho twisto poi non arriva più dovrei fare una giunta e verrebbe fuori un lavoraccio. Seconda cosa, ho cambiato il condensatore di livellamento dell'alimentatore delle griglie controllo delle finali, quello che serve per dargli la polarizzazione negativa variabile con questi quattro trimmer. Ho messo dei condensatori più grossi, di miglior qualità, prima c'erano due condensatori a 220 microfarad, adesso ci sono due condensatori, uno da 470 e l'altro da 1000 microfarad. Oltre a questo ho cambiato anche le due capacità poliestere con condensatori di capacità maggiore, che sono in parallelo a questi due. Poi, terza modifica, ho cambiato il cavo che porta il segnale di controreazione dall'uscita agli stati di ingresso, questo e questo. L'ho cambiato con un cavo schermato, per evitare interferenze di natura elettrostatica. Ho collegato il conduttore centrale, ovviamente, quello che porta il segnale sia sull'uscita che sulla parte pianificatrice e la calza l'ho collegata solo da una parte e va a massa. In questo modo elimino tutti quanti i disturbi di natura elettrostatica e non induco loop di massa, avendo collegato la calza solo da una parte. L'unica altra modifica che mi viene in mente ed è possibile fare è cambiare i condensatori di accoppiamento in testadio con condensatori di qualità migliore. Questa sarà la prossima modifica che farò appena mi arrivano i condensatori. I condensatori in testadio di buona qualità costano veramente un botto. Povero me. Ok, vi rimando agli altri miei video, fra l'altro ne uscirà uno a settimana e vi saluto. Ma prima di salutarvi, per fare queste modifiche ho dovuto fare lo schema, cioè nel senso che ho fatto il reverse engineering dell'amplificatore e ho ricostruito lo schema completo. È disponibile sul mio sito audiovavole.it. È l'unico schema completo del DaredWP16 che esiste, perché l'ho chiesto anche al produttore ma non mi ha mai risposto. L'ho cercato e non ho mai trovato niente. Quindi lo schema che troverete sul mio sito è l'unico che esiste per il DaredWP16. Di nuovo buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.